ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi saremo in questo video per una partita di football strike credo che vi ricordate che l'ho già portata una volta e dopo questo iniziamo subito il video ecco iniziamo vediamo apriamo la boss apriamo la borsa anzi prima prendiamo le monete che sono sopra poi lasciamo stare il resto ora apriamo la borsa troviamo delle monete precisione e delle case nuove mi aspettavo qualcosa in più blocchiamo questa borsa facciamo il giro del giocatore vediamo alle sfide otteniamo due soldi banconote vediamo che vince vediamo e vinciamo 3.500 euro soldi dollari quello che volete a parte dei scarsi continuiamo vediamo qua ci sono le solite pubblicità io direi che possiamo anche iniziare a fare una partita iniziamo con le punizioni spero di vincere questa partita 1 0 comincio io vediamo il tiro guardia abbiamo fatto il primo gol finalmente vediamo lui vediamo guardia non ha buttato fuori non ha male tutti noi tiriamo ancora a destra stavolta ce l'ha parata alla mia destra va fuori fuori l'ho buttata Vediamo, io mi butto, la palla va fuori, quindi ho vinto, sono riuscito a giungere la prima sfida anche per qualche difficoltà. Prendiamoli una faccina, quella con gli occhiali, da sole. Torniamo indietro, guarda tiri, voglio fare una più complicata stavolta, voglio prendere. Vediamo. Sfidiamo questo qui, spero di vincere una nuova. Tiro subito, più tre punti. Ancora tre punti, quindi sono già solo. Ne prendiamo di noi stavolta. Uno ha fatti quattro, mezza e dieci. Continuiamo a giocare, super calda. Il tiro a cinque punti, quindi siamo a due da sette, lui ancora a quattro. Siamo a diciannove ora, tiriamo la venti due punti. Ci proviamo ancora in modo di scherzare. Sempre lì, allo stesso modo. Non ci riesco. Proviamo così e ancora niente. Ce l'abbiamo fatta finalmente, più due. Quello si è bloccato, mi. Ha tirato? Sì, ha tirato. Ora pure ha tirato, noi tiriamo e facciamo giunto. 32 a quattro, abbiamo vinto. 42 a quattro abbiamo vinto. Abbiamo la stessa faccina anche a loro. Abbiamo vinto pure un po' di soldi nelle coppe. Andiamo a prenderceli. Presi. E ora torniamo indietro. Faccio pure una partita alla carriera. Ora sta caricando. Ecco, siamo nella carriera e iniziamo con questa partita. Siamo a livello tre della carriera. Allora, uno si comincia. Tira prima lui. Tira fuori. No, è gol. Ci ha fatto gol. Tiriamo noi da quella parte. Gol! Viene presso da lui. Meno male. Tiro che mi butta da quella parte. Mi capo. Viene troppo presso. Quindi, gol è su. Io tiro là. Go, go, go. Quindi, tutto in parità. Go, go. Dai, mi si è buttato malissimo. Perso. Tre due per due. Tiro, gli fuori. Cioè, la parata, ma si è ribandata fuori. Quindi, sta vincendo lui. Tiro, mi butto da pari. Se serve, torno in parità. Ho preso la traversa. Vediamo. Il tiro e la parola. Se mi ingegno, ho perso. Ho segnato.